segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te equamente distribuito a tutte le latitudini su questo non c'è dubbio e a proposito di destra e sinistra sentiamo la curiosa affermazione del ministro della cultura san giuliano su dante io voglio ringraziare giorgia meluni per avermi affidato questa responsabilità che un po il sogno di una vita che chi come me ha sempre praticato la cultura può avere cioè diventare un giorno ministro della cultura la destra a cultura ea una grandissima cultura io ritengo che il fondatore so di fare un'affermazione molto forte del pensiero di destra nel nostro paese sia dante alle ieri perché quella visione dell'umano della persona sia profondamente di destra e vabbè lo lasciamo in sospeso così da proprio oggi Anif Kureish in grande scrittore che era ricovegato da qualche giorno in ospedale a cui facciamo i nostri migliori auguri proprio oggi iniziava il suo thread su tweet spero di averlo detto bene la sua diciamo conversazione su tweet che tiene ogni giorno dal letto d'ospedale citando dante e non lo faceva diciamo con queste parole non è noto nel mondo accademico della cultura per essere un uomo di destra lo sapeva lei che dante anche qui secondo me non c'è contraddizione nel pensare che dante sia un po il padre del pensiero conservatore soprattutto quello italiano e affermare contestualmente che dante comunque di tutti del resto le categorie di destra e di sinistra se permettete io le ritengo così un po' sbiadite rispetto al nostro tempo possiamo dire possiamo dire che ugo spirito per esempio in teoria dovrebbe essere collocato a destra ma è in realtà persona di forti contenuti filosofici e sociologici di sinistra però è anche molto forte dire che dante è il fondatore del pensiero politico della destra in questo paese è una cosa forse secondo me è un po' la parola destra che spaventa perché già il pensiero conservatore insomma lo mette in linea con tanti altri pensatori assolutamente nobili forse il destra chiama un partito dante non appartiene a un partito su questo ci siamo ma sono convinto che ci sia anche il ministro san giuliano quindi tutto sommato è d'accordo con san giuliano rampelli come si fa a dire che dante sia per esempio un progressista ma dante è dante secondo me chiedo scusa persona persona che scrive e quindi diffonde il suo pensiero un pensiero forte di fatto quando scrive mette in campo la sua sensibilità che poi comunque viene giudicata diciamo così più che giudicata viene catalogata ok però se scrivi cose bello su uno scrittore no una potrebbe dire allora quando quando dante scrisse ai serva italia di dolorostello ma bordello allora è grillino è una testa è anche anche fuori perché no l'affermazione sì perché se questo è vero allora allora non c'è più un'appartenenza no e quindi per esempio per le nomine mi viene in mente no tutto lo spoil system tutto questo cioè chi è portatore di un io adoro gramsci di cultura alta però non può non avere anche dei consensi a destra e viceversa prima ho fatto l'esempio di cospito ma chissà quanti ne potremmo tirare giù persino c'è che vara per molti ragazzi di destra è considerato una persona affascinante e molti se lo attaccano entro la stanza proprio quindi dipende da quello che prendi di una persona di un pensatore questo me lo racconta lei non non è vero il contrario il comunismo è stato è stato un'ideologia nefasta ma comunque non si può discutere del fatto che abbia emancipato diciamo così la russia da un certo dominio zarista che quindi qualcosa di buono anche alcune ideologie estremiste lo hanno fatto a prescindere insomma da quelli che sono stati poi le eruzioni degli epiloghi le vorremmo chiedere qualcosa su bolsonaro però prima abbiamo il super momento di interruzione poi torniamo alla questione